Ben ritrovati amici di Car Show Classic, quest'oggi ci troviamo presso la concessionaria progetto di Corso Unione Sovietica a Torino per un'occasione quanto mai speciale. Il punto della situazione nella stagione 2018 e le grandi novità che ci sono per il 2019 del Team Fulvia Polpico Classic, una stagione molto esaltante ma andiamo con ordine, parliamo innanzitutto con Franco Boiocchi che è il manager di questa azienda svizzera che quest'anno ha appoggiato i programmi automobilistici, è un po' un ritorno ma è una prima volta sulle storiche, è vero Boiocchi? Ma è esattamente così, è un ritorno perché noi tanti anni fa con le gare di offshore, parliamo di oltre 20 anni fa abbiamo anche abbracciato il mondo delle corse rallistiche ed è stata un'esperienza veramente interessante perché si affianca a un'altra che facciamo da tre anni oramai con le macchine vintage, quindi rally storici e macchine vintage insieme abbiamo due ottime scuderie. Ecco, ad inizio stagione quando abbiamo presentato questo programma dicevamo proprio che Polpico si sposa alla perfezione con la filosofia elegante e storica di queste vetture. Sì, assolutamente, poi Polpico nasce a metà degli anni 70, queste sono le vetture che in quegli anni hanno fatto la storia del rally, diciamo che era un binomio che non potevamo mancare. Ecco, una stagione che si conclude nel migliore dei modi perché i risultati ci sono stati, diciamo che Polpico e il team Fulvia Classique possono essere soddisfatti di questo 2018. Assolutamente soddisfatti, quindi rinnoviamo la collaborazione anche per il 2019, un grande in bocca al lupo a Graziano e a Anna, in ogni caso sarà un successo. Ecco, l'esperienza con le automobili è servita anche a Polpico per fare delle proposte nuove, degli orologi che raffigurano addirittura la propria vettura, quindi un pilota che vuole vedere la propria vettura raffigurata sul proprio orologio, naturalmente Polpico, in questo momento lo può fare perché è nata questa idea, proprio dalla sinergia sportiva è nata questa idea. Franco Biocchi ce l'ha portato ed è qui, lo spieghiamo. Sì, è vero, è stata un'idea che ho avuto insieme a Graziano. Tutti noi abbiamo dei momenti speciali, dei momenti che vogliamo ricordare. Nell'ambito delle gare poi questo, può essere una curva, un podio e quindi perché no, visto che si fanno orologi e si misurano i momenti, riprodurre questo momento sul quadrante dell'orologio. È nato quindi il Gentleman Your Moment, in questo modo ognuno può riprodurre sul quadrante dell'orologio un quadrante logato Polpico con la sua foto memorabile e Graziano ha voluto riprodurre la splendida lancia in corsa con questo variante di Gentleman Full Black, quindi devo dire che è stata anche un'ottima idea dal punto di vista del business commerciale. Un 2019 che si presenta ancora ricco di grosse novità sportive. Polpico è ancora in campo con questi due equipaggi che tra qualche istante andremo a conoscere. Sì, certamente. Non abbiamo esitato ad appoggiare il progetto per il 2019. Tra l'altro la livrea si propone ancora più aggressiva e quindi ancora una volta in bocca al lupo a Graziano e a Anna. Ecco, si parlava di livrea sul cofano della lancia fulvia di Graziano Espen e Anna Canale e è raffigurato un orologio molto particolare a cui voi tenete molto. Sì, è il Plongeur che è il nostro orologio più iconografico. Nasce nel 1987, non ha mai cambiato la sua livrea, il suo profilo, quindi è un concept watch disegnato dalla linea retta e dal cerchio perfetto. Mi sembra che anche la lancia fulvia abbia una livrea talmente riconoscibile e iconografica, quindi il binomio è perfetto. Ringraziamo Franco Boiocchi di Polpico. Grazie a voi. Graziano Espen, Anna Canale, Simone Pinna, Franco Bottan sono i piloti del Polpico Classic. Fra qualche istante sono con noi i microfoni. E con un'occasione come questa non poteva mancare una sorpresa ancora una volta firmata Polpico. Ai due equipaggi che hanno corso in questa stagione e che correranno anche nel 2019 con i colori Polpico, l'azienda svizzera vuole consegnare un fantastico orologio che abbiamo già avuto modo di vedere nelle mani di Franco Boiocchi ai piloti di questo fantastico team. Prego. Bene, allora complimenti ancora per l'ottima stagione. Graziano, questo è il tuo gentleman personalizzato con una stupenda foto che ti ritrae con Anna in corsa. Grazie ancora e in bocca al lupo per il prossimo anno. Ti ringrazio, sono momenti preziosi, momenti unici che noi viviamo. Grazie e alla prossima. Ciao. Volentieri. Simone Pinna e Franco Bottin hanno portato in gara nel 2018 questa Fiat 127 con i colori Polpico. Simone, allora come è andata? Bene, siamo soddisfatti anche perché era una prova per la macchina. Devo dire che sta reagendo bene, sta dando molte soddisfazioni e siamo contenti. Abbiamo buttato le basi per continuare questa attività in modo goliardico. Ecco, guardiamo dentro la sfera di cristallo. Nel 2019 cosa vediamo? Come appuntamenti vorremmo rifare quello che abbiamo fatto nel 2018, quindi la Rally della Lana, la Cesana Sestre, di cose ce ne sono tante. Abbiamo delle gare alle quali teniamo di più, come appunto potrebbe essere la Rally della Lana, che comunque è impegnativa e poi ha il suo perché. Ecco, possiamo ricordare che tutto verrà comunque presentato da Automoto Retro, che è un pochino il primo appuntamento dell'anno, non agonistico ovviamente, ma dove c'è l'occasione per incontrare gli amici e i tifosi e raccontare quello che sarà il 2019 sportivo di questo equipaggio. Sì, 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 decisamente sì, all'Automoto Retro, che è una splendida vetrina qua, che fortunatamente abbiamo a Torino per questa tipologia di automobili. Sì, presenteremo la stagione, insomma è anche un punto d'incontro con amici e appassionati per vedere queste vetture. Poi studiare e progettare appunto gare future, insomma cose ce ne sono tante. Vi aspettiamo lì. Franco Bottan, l'esperienza che quest'anno ha affiancato la gioventù di Simone? Beh, diciamo così, è stato il primo ritorno alle gare dopo tanti anni che avevo peso, come si dice, il casco al chiodo. Simone, ma con i volti in questa avventura, mi sono divertito tantissimo a Lana, come penso mi divertirò il prossimo anno se lui vorrà ancora correre con me. La macchina, come diceva Simone, ha reagito benissimo e ogni volta che la vedo c'è una sorpresa nuova, per cui il prossimo anno vedremo di migliorare la classifica, migliorare le prestazioni che avevo avuto quest'anno. Ecco, Simone è pilota ma è uno che è di orologi se ne intende, visto che parliamo di orologi. Sì, sì sì, dicono. Sì, io sono centro assistenza tecnico Polpicò, guarda caso. Sì, insomma è una passione quella degli orologi che è venuta dall'infanzia come per le macchine, quindi è cresciuta in me come la passione per le macchine, le corse e gli orologi. Bene, l'appuntamento quindi, dimmi. Ringraziare il discorso del navigatore, che sono io a ringraziare Franco per l'esperienza che mi sta facendo fare, perché da lui sto imparando molte cose sulle gare e su come gestire un rally. Bene, con Simone Pinna e Franco Bottin l'appuntamento allora a Automoto Retro. In questo caso è difficile definire pilota, perché ci troviamo davanti a due piloti, Graziano Espen e Anna Canale. Cominciamo da Graziano che è stato il pilota che ha portato la Lancia Fulvia sulle prove speciali realistiche di questa stagione 2018. Ed ha anche riportato Anna Canale sulle prove che l'hanno vista come pilota e questo è veramente imbarazzante avere una navigatrice che è più veloce di te, ma non importa, perché ci stiamo divertendo un sacco, perché gli amici credono in noi, perché siamo tornati ragazzi. Diciamo così, una stagione 2018 che pone le basi per un 2019 e, boiocchi l'ho detto apertamente, dove vi vedranno ancora in pista la Lancia, voi e Polpicò. Io l'ho detto su un palco a partenza, il futuro sta nelle storiche, non perché io stia rinnegando le moderne che mi hanno dato tantissimo nei miei dieci anni da pilota, ma perché nelle storiche si ripercorre il passato e si ripercorre un pochettino la propria vita agonistica e questo è veramente piacevole. Anna, una stagione 2018 dove le soddisfazioni non sono mancate, sia sulla sedile di destra che su quello di sinistra. Allora, il rally della lanna è andato benissimo, siamo arrivati primi di gruppo, no, di classe, le prove dell'anna sono sempre bellissime, non si può mancare sicuramente di partecipare a una gara così bella. Il Sanremo altrettanto è una gara bellissima, quest'anno l'abbiamo affrontata per la prima volta, siamo arrivati secondi di classe, poi il vesime dove è andato di nuovo bene, siamo arrivati i quinti assoluti delle macchine storiche. Io ho partecipato alla Cesare Sestre e sono arrivata prima perché giustamente... Per ribadire il passato che hai visto Anna Canale è sicura tra i protagonisti di Querrellismo. Sì, assolutamente sì, mi fa molto piacere essere al volante comunque di una Fulvia perché le ultime gare le ho fatte con una 037, quindi teniamo alto per quanto si può ancora il nome Fulvia, cioè Lancia perché se lo merita sicuramente. I piloti Lancia sfoggiano i loro orologi Polpicò che sono appena stati consegnati e naturalmente vi danno appuntamento per la stagione 2019, ad iniziare proprio da Automoto Retro. Grazie. 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 Grazie.